Amici di Ciacomo, buongiorno, eccoci qua oggi nella nostra diretta di Sport Magazine un po' particolare, la facciamo in esterno e la facciamo con il sindaco di Cernobbio Matteo Monti che ci vuole ovviamente parlare e anzi lo cogliamo l'occasione anche noi per associarci e fare magari un saluto all'amico di tante avventure che è questo qua, lo vediamo sulla pagina Facebook del sindaco, adesso aspetta che lo mettiamo a fuoco, eccolo qua. Filippo Mondelli di Cernobbio, un grandissimo atleta, giusto sindaco? Buongiorno, buongiorno, grazie di aver accettato il nostro invito, ecco a noi farebbe davvero piacere che questo nostro video possa arrivare a Filippo, vero? Sì certo, questo è un messaggio che colgo, nel senso che sicuramente una delle prime cose è l'amicizia che ho, oltre a essere un cittadino cernobbiese, è un grande sportivo, è un grande che nell'anno 2018 perché Filippo ha ottenuto il titolo di campione del mondo di canotaggio, nello stesso anno il CONI l'ha premiato con un collare d'oro e l'ho accompagnato in quel percorso, anche se si vede che sono uno sportivo, rispetto a lui sicuramente è un grande sportivo, è un grande riferimento anche per i giovani, perché Filippo è riconosciuto anche a solo 25 anni, ma davvero i bambini, i ragazzi lo vedono come un idolo perché sicuramente ottenere un grande titolo... Ecco qui all'aeroporto, vero? Quando è arrivato con la medaglia d'oro? Quando è arrivato con la medaglia d'oro l'abbiamo accolto con un gruppo di ragazzi, un gruppo della sua squadra, che è la canotia di Moltrasi. Sì, esatto. Perché bisogna raccontare anche questo aneddoto, che Filippo adesso lo vedete in questo modo, in maniera davvero un grande atleta, ma qualche anno fa era un po' come il sindaco, aveva qualche chilo in più ed era un po' più basso e quindi sicuramente lo sport le ha permesso di crescere anche con la sua forza, perché questo è proprio quello che ho scritto nel messaggio, lo ripeto, la sua testardaggine, la sua forza, la sua voglia di trasmettere, di terminare e raggiungere un obiettivo, perché in barca bisogna testa bassa e remare per raggiungere l'obiettivo. Adesso insieme a lui, perché io come ho detto e l'ho scritto, a dicembre l'ho accompagnato insieme al presidente della canotia di Moltrasi, insieme alla famiglia l'abbiamo accompagnato al CONI a ottenere questo collare d'oro e adesso lo accompagniamo ancora di più. Quindi io colgo anche questa occasione sicuramente per portare l'apprezzamento e le amicizie che sono arrivate in questi giorni, perché tanti cittadini e anche tanti amici mi hanno scritto, perché sicuramente hanno appreso di questa notizia. Sì, perché lui è proprio di Cernobbio. È di Cernobbio. Lo conoscete veramente bene, è un ragazzo tra l'altro, mi dicono, ma credo che non ce n'è bisogno di una umiltà esagerata, Filippo, non si è mai montato la testa, non ha mai avuto un atteggiamento fuori luogo. Quei pochi giorni che era qui, perché effettivamente per ottenere questi risultati non era qui, era a fare attività sportiva e questo sicuramente quando arriva a Cernobbio, come ho scritto, è quella persona dove quando ci si inconda si circonda di vecchi e giovani, perché poi l'obiettivo è quello di far capire quanto è importante lo sport. E Filippo questa cosa l'ha fatta e lo sta facendo ancora adesso, perché credo che la sua forza, la sua determinazione, la sua grinta nel continuare questo lungo percorso che ci sarà. Quindi io davvero colgo questo breve periodo per dire sicuramente a Filippo, credici, vai avanti con la tua forza, la tua determinazione e vedrai che l'ostacolo lo supererai senza premio. Come l'hai fatto anni fa, quando nessuno ti credeva davvero che diventassi con questo grandissimo risultato, oggi ancora di più vai avanti e rema in questo lungo percorso. Io credo che questo appunto è una gara extra sport, ovviamente, lui è abituato a fare quelle appunto sui campi di gara, ma credo che tu conosci la sua forza d'animo forse, no? Se parli così, Matteo, vuol dire che tu conosci bene il regalo. Io conosco Filippo a tanti anni, ho scritto nel 1995 perché è nato nel 94. Esatto, esatto, questo è il tuo posto, è vero Matteo? Sì, sì. 1995, un'amicizia quindi davvero di lunga data consolidata con Filippo Modelli. Sì, e poi con Filippo abbiamo creato anche quel gruppo di giovani, quel gruppo di persone che lo aiutano. Quindi davvero dal suo posto, perché poi tutto questo è nato dal suo posto, tanti giovani non solo di Cernobbio hanno apprezzato la sua attività e quello che sta facendo in questo momento. Quindi davvero state lì vicini e stiamoli tutti vicini e stiamo uniti in questo momento che sicuramente anche questo ostacolo che abbiamo fatto anni fa lo supereremo. Ecco, questo quindi possiamo chiudere così, no Matteo, con questo tuo bel appello accorato. Se Filippo ci guarderà in questi giorni, vogliamo dire che anche noi siamo vicini a lui, è venuto a trovarci spessissimo, persona squisita, grandissimo campione, vero Matteo? Chiudiamo così? Sì, sì, è un grandissimo campione, è una grandissima persona che apprezza le piccole cose, perché lui è diventato davvero un campione del mondo e quindi non si è montato la testa che mi è rimasto sempre Filippo di una volta. Quindi davvero continuiamo in questa grinta, in questa determinazione e vedrete che tutti assieme uniti supereremo questo ostacolo.